DJ Television, dodicesima trasmissione Italia 1, sabato ore 24, domenica ore 14. Ciak! DJ Television, la musica di Radio DJ su Italia 1. Carissimi amici, ben ritrovati nel nostro weekend pieno di musica. Sto parlando del weekend targato DJ Television. Ecco, finalmente è arrivata la nuova sigla, la tanto attesa nuova sigla di DJ Television. Arriva direttamente da New York, è stata realizzata da un gruppo di fuori di testa che poi vedremo insieme. E vi ricordate le immagini che ci hanno mandato alcune settimane fa? Bene, non erano immagini registrate così a caso, ma erano proprio immagini tratte da questo video. Ok, visto che la sigla è di DJ Television, è chiaro che il primo passaggio lo faccia proprio in video The First. Attenzione, ecco la sigla DJ. Nice mix, hey guys. Grazie a tutti. 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 4, 3, 2, 1, 0. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.